ciao a tutti amici amici benvenuti o bentornati sul canale per un nuovo video allora oggi un video all prevalentemente abbigliamento che ho fatto ieri quando sono stata allo shopville granreno per le bolognesi quello che si trova appunto a casalecchio di remono dove c'è primark e poi vi faccio vedere degli acquistini che avevo fatto da calzedonia una settimana fa e dicevo prevalentemente abbigliamento per quanto riguarda me e intimo diciamo intimo abbigliamento per quanto riguarda me poi c'è ci sono delle cose per il bambino per chi non lo sapesse ho un bambino che ha dieci anni avevo bisogno di rinnovare un pochettino il guardaroba a livello di felpe e primark è ottimo per questo questo lo dico ovviamente per le mamme all'ascolto e poi all'interno del centro commerciale c'è tiger e ho fatto un giro lì ho fatto qualche acquistino di cartoleria e di cose per la casa ma non tantissimo ho comprato anche delle cose di make up da sephora e da wycon ma il make up e il beauty ve lo farò vedere in un video a parte quindi comincio a farvi vedere quello che ho acquistato da calzedonia la settimana scorsa dove c'era la promozione dei leggins c'era il 2 più 1 quindi praticamente potevi prendere questi leggins al prezzo di 23 al prezzo di 2 quindi hanno presi 3 io volevo i leggins in ecopelle e quindi niente ho preso vi faccio vedere questi leggins neri semplici in ecopelle normalissimi taglia s perché comunque li ho misurati in negozio perché adesso come sapete ho perso molto peso alla fine ho perso 20 chili per cui perché mi sono pesata ieri quando sono andata a fare la visita di controllo a pisa e ho perso 20 chili quindi chiaramente sto cercando di mangiare un po di più perché non voglio dimagrire troppo e però adesso sono una s la m mi sta larga per cui ho preso la s poi li ho presi visto che c'era appunto questa promozione anche in questo colore che è un verde oliva identici praticamente e magari avrei scelto anche un altro colore ma la commessa in quel momento mi ha detto che per quanto riguarda i jeans cioè scusate i leggins in ecopelle c'era sono c'erano solamente questi due colori nero e verde e poi ho preso questi ragazzi che mi piacciono tantissimo che si chiamano total shaper dove c'è praticamente l'immagine di questo sedere ovviamente non avrò mai il sedere così però dovrebbero essere modellanti infatti sono molto stretti quando si indossano di questo tessuto sempre in ecopelle ma più elastico e fatto in maniera diversa ve lo inquadro e molto bell'indosso mi piacciono allora questi si chiamano total shaper e poi penso che i jeans classici cioè scusate i jeans i leggins classici di calzedonia si chiamano skinny fit e praticamente questi tre leggins io alla fine quelli skinny fit costano 19,90 19,99 gli altri costavano 29,90 alla fine ho pagato solamente 50 o circa 50 euro 49,90 qualcosa del genere per questi tre paia di leggins quindi sono stata molto contenta non so se questa promozione c'è ancora ragazze perché perché la ragazza mi aveva detto che c'era ancora per qualche giorno tra l'altro io non sono andata sapendo della promozione ci sono capitata per caso e mi è andata bene con la promozione poi ieri sono stata da primark perché avevo bisogno fondamentalmente di cose col bustone per il bambino quando sei lì comunque ti lasci prendere la mano perché è uno di quei negozi dove costa tutto molto poco e quindi infili nel carrello perché dici poi io non ce l'ho proprio vicinissimo cioè è a bologna però a casa lecchio io abito più verso san lazzaro mi devo fare comunque 20 chilometri spesso la tangenziale è intasata per cui quando ci vado cerco di comprare abbastanza perché non è che voglio tornarci tutte le settimane cioè insomma non mi va di tornarci spesso infatti penso che adesso sono a posto anche perché l'abbigliamento da donna non mi entusiasma come avevo già detto e quindi per momento sono a posto e penso di ritornarci magari non lo so forse a natale prima di natale non lo so allora comincio a fare per i bambini però ci sono delle buone cose anche se io avevo bisogno di felpe con la zip per mio figlio karim perché gli ho fatto un po ho fatto un del decluttering nel suo armadio molte cose gli erano piccole di felpe con la zip c'era pochissima scelta c'erano solo tre pezzi da di scelta però erano molto finite le misure perché primar ha questo problema che o arrivi che c'è la misura perché la commessa mi ha detto che ci sono cose che arrivano praticamente tutti i giorni e però poi vanno via quindi non è che tu insomma devi andare e prendi quello che trovi insomma da quello che ho capito quindi se volete queste cose bisogna andarci abbastanza in fretta altrimenti gli articoli cambiano almeno questo così ho capito quindi vi faccio vedere quello che ho acquistato per il bambino allora ho acquistato questo pigiama in pile però non è pesanti cioè nel senso il tessuto è sottile in questa fantasia con i pantaloni a quadretti e la maglia con questa scritta vedete l'ho pagato 8 euro un buonissimo prezzo e l'ho preso nella taglia 10 11 mi sono monita di forbici avevo messo qui le forbici e già non le trovo più eccole perché magari volevo aprirli insieme a voi così ve li faccio vedere meglio adesso non tutto ma comunque questo è il pigiama magliettina con la magliettina così vediamo se riesco a quadrarla bene e il pantalone così in scozzese questo in pile leggero e questo sì c'era scritto 8 euro poi tanto adesso butto tutto lì per terra perché tanto poi metto tutto a lavare poi i bambini amano tantissimo la playstation queste cose qui quindi che cosa ho fatto gli ho preso questa felpa grigia con questi diciamo disegni elementi che ricordano la playstation con scritto playstation questa era una di quelle che costava un po di più 10 euro ce n'era un'altra anche blu molto bella molto più bella col cappuccio secondo me anche con la tasca qui ma purtroppo era finita la taglia per cui io per quanto riguarda il discorso playstation non gli ho preso questa poi sempre felpe per il bambino anche questa bellina da matti questa col cappuccio normalissima con questa scritta sports club original e questa l'ho pagata ragazzi solo 7 euro c'è una felpa così carina 7 euro non si trova da nessuna parte poi sempre questa anche molto carina col cappuccio in questo perdone con questi inserti e disegni gialli e neri con scritto free spirit eccetera anche questo stesso modello dell'altra col cappuccio però verde e questa costava 7 euro cioè felpe a 7 euro ragazze ovvio se costano 20 per cui si risparmio veramente tanto sui bambini poi considerando che loro spaccano usurano tutto sinceramente poi anche questa vera in questa scusate gialla così sempre taglia 10 11 le felpe glielo prese che sono 146 centimetri per quanto riguarda primark anche questa con scritto ultimate gamer con questo con il joystick non della playstation perché ieri mio figlio mi ha ripreso dicendo che il joystick di qualcos'altro comunque sempre di quei giochi di quelle console che piacciono tanto ai bambini moderni poi gli ho preso questo completo questa tuta completo militare questa qui con pantalone di felpa modello militare normalissimo questi costano questi pantaloni modello militare 7 euro e li ho presi sempre nella taglia 10 11 e e poi la felpa abbinata quindi così gli ho fatto una tuta praticamente con la felpa abbinata con la zippa e col cappuccio questa è l'unica felpa con la zippa che ho trovato perché le altre appunto ce n'era una blu e una nera c'era poca scelta di questo e quindi questa era l'unica che ho trovato nella taglia che mi interessava a me e l'ho pagata 8 euro quindi ragazze 8 euro praticamente con 15 euro 8 più 7 fa 15 io con 15 euro gli ho fatto una tuta e sinceramente non si trovano questi prezzi negli altri negozi quindi per il bambino super conveniente poi cosa gli ho preso gli ho preso delle magliette a mani di cotone a maniche lungo perché scarseggiava totalmente di questo genere di appunto di magliette anche queste super convenienti dai 32 euro e mezzo pochissimo proprio gli ho preso questa vado veloce perché tanto sono tutti pezzi uguali le mamme mi capiranno alla fine i bambini si mettono sempre queste queste cose qui io all'inizio magari compravo dei maglioncini poi rimanevano sempre nell'armadio non se li voleva mai mettere alla fine adesso io gli compro solo queste cose qua perché non mi va di spendere soldi inutilmente per cose che poi rimangono nell'armadio e non utilizzano cioè anche se andiamo a cena fuori lui si vuole vestire sportivo per cui non vedo perché gli devo comprare i giacchettini tutte quelle cose un pochettino da damerini che molte mamme mettono ai bambini io non gliele metto quelle cose lì per cui compro solo queste cose dicevo questa verde con questa scritta così e l'ho pagata 3 euro ragazze questa l'ho presa nella taglia 9 10 perché poi non c'era la taglia 10 11 era 11 12 e mi sembrava troppo grande ad ogni modo come maglia questa sono 140 centimetri dovrebbe stargli precisa magari poi l'anno prossimo queste gliele ricompro tanto comunque costano talmente poco poi gli ho preso questa azzurra color ottaneo con questa fantasia gialla questa un pochettino con degli inserti diciamo del basket quindi football league c'è scritto michigan 1963 eccetera questo a me non fa impazzire ma lui piaciuta è piaciuta per fortuna questa rossa con perché lui ama comunque rosso ah vabbè non vedo i prezzi ma tutte 3 euro tranne quella grigia 3 euro e 50 sì quella grigia è quella che costa di più ma 3 euro e 50 ragazze quindi questa qui rossa 3 euro cioè all'ovs queste costano anche 10 euro quindi per comprargliene 5 devo spavere 50 euro qui ho speso poco più di 3 6 9 15 punti euro per queste maglie questa anche 3 euro giallina poi gli ho preso visto che ero lì e non ci vado appunto tutti i giorni gli ho preso questo pack di boxer perché lui ama questi questo genere di boxer sempre taglia 9 10 perché lui comunque è molto magro sotto né soprattutto sul bacino e quindi gli ho preso la taglia un pochettino più 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 piccola questi costano sono 5 costano 10 euro quindi 2 euro a boxer ottimo prezzo per il bambino direi che ho finito poi ho comprato delle cose per me ragazze perché primark secondo me è molto buono per i pigiami intimo queste cose qui e puccioserie chiamiamo le puccioserie cavolatine che appunto diciamo come posso dire cavolatine che metti nel carrello perché sono carine e non ce la fai a dire di no ecco però i pigiami secondo me sono da attenzionare perché costano poco o meglio costano meno rispetto ad altri posti e secondo me sono carine io ne avevo comprati due estivi e e niente mi ero trovata bene l'unica cosa che lì avevo preso la taglia m sono un po grandi per me adesso appunto che sono dimagrita per cui a questo giro mi sono presa dei pigiami taglia s ho preso questo magari dopo intanto ve lo faccio vedere che è un semplice pigiama con la maglia rosa e questi pantaloni di cotone con questa fantasia florale molto carina magari ve lo apro questo mi sembra che l'ho pagato 8 euro pochissimo questo ha la manica corta quindi diciamo ideale anche in questa mezza stagione anche se adesso sta cominciando un pochettino a fare freddo almeno qui al nord però a sud magari e niente il pantalone molto semplice con come si chiama questa la banda sotto con l'elastico in vita questo è un semplice appunto pigiama di cotone con appunto la maglietta sopra con le maniche corte poi io invece amo quest'altro genere di pigiami per l'inverno e mi sono voluta prendere appunto questi due pigiami che si chiamano check pigiama set sempre nella taglia s e le ho presi in due colori differenti anche se c'era anche grigio ero pure tentata di prendermelo anche grigio però io poi ho detto vabbè due sono più che sufficienti e sono questi pigiami con il pantalone io penso che sia di flanella però ragazze io non è che mi intendo molto di tessuti e però quei tessuti che ci sono diciamo in queste fantasie scozzesi con questa maglia di lanetta questi sono di un genere di pigiami che per me per l'inverno mi piace molto ve lo apro magari così lo guardiamo insieme aperto ho preso le forbici apposta così magari ve ne apro solo uno questo verde questo verdino tessuto devo dire morbido e buono questi costavano 15 euro però considerando che è un tessuto questo di lana sinceramente dunque vediamo com'è fatto riesco a vedere l'etichetta di com'è fatto comunque vabbè a questa magliettina di lana a costine vediamo se riesco a vedere no purtroppo non riesco a vedere di che cosa è composta c'è il tessuto che cos'è d'ogni modo ragazzi questi sono pigiami secondo me che si vanno se si vanno a comprare da calzedonia piuttosto che in altri yamamai questi negozi qua intimissimi questi li paghi anche 50 euro per cui appunto li ho voluti prendere ho preso questo verdino nel nei toni del verde con questo pantalone io adoro questi questo genere di pantaloni per il pigiama d'inverno a scacchi in passato prendevo quelli della lidl le ho buttati perché appunto avevano fatto il loro tempo e volevo qualcosa che sostituisse stavolta appunto preso questi di primark e poi ragazzi l'ho preso anche in beige ho detto che c'era anche grigio con gli scacchetti pantalone era fatto con una fantasia a scacchetti mentre invece io ho scelto comunque questo beige con sempre questi scacchi e sempre questa diciamo magliettina il pezzo di sopra appunto del pigiama fatto in questa lanetta stesso identico modello solo il colore è differente diciamo anche quello grigio era molto carino col pantalone a scacchini forse avrei ho sbagliato forse avrei preso quello grigio avrei dovuto prendere quello grigio perché almeno la fantasia del pantalone era diversa ma vabbè poi lì ragazze primark è grandissimo è un negozio secondo me troppo grande tende a venirti il mal di testa dopo un po che sei lì dentro quindi prendi cose così era infusa secondo me una politica di marketing anche cioè ti rimbambisci dentro il negozio e metti dentro a carrello perché dici no non ci voglio tornare più perché mi rimbambisco e poi metti dentro al carrello ad ogni modo non ve l'avevo detto ho speso 140 euro ma come vedete ho comprato parecchie cose poi le ultime cose che vi faccio vedere ragazze sono puccioserie ovvero sia fasce di tutti i tipi perché veramente primark per le fasce è qualcosa di fantastico intendo fasce da usare in casa prevalentemente allora ho preso questa qui che era super scontata a 1 euro 40 si vede che era una rimanenza estiva in questo colore lilla fatta appunto di come si dice di questo pelosi pelosetto di questo pelo ovviamente sintetico della care beers questo è un cartone animato che non conosco sinceramente ad ogni modo costava appunto 1 euro e 40 ed era scontata questa al 53 per cento per cui ho preso questa poi ragazze questa guardate che carina la fascia del coniglietto stupenda questa l'ho pagata 3 euro eccola qui bellina da matti poi sono anche abbastanza comode devo dire perché io ho quella di paperina che avevo comprato ad agosto quando aveva aperto devo dire è bella questa è di looney tunes perché comunque ci sono anche tutte queste cose appunto lo sapete per chi va da primark che appunto sui cartoni animati con fantasia di cartoni animati vari anche pigiami da donna io preferisco le cose più classiche per cui ho comprato queste cose più classiche però ci sono anche quelle cose lì poi un'altra fascia questa questa invece non ha nessun tipo di non è ispirata a qualche cartone animato l'ho pagata a 2 euro sempre in questo pelo diciamo in questa fantasia diciamo duo chrome si può dire azzurra rosa viola molto carina poi ragazze questa secondo me che è bellissima e costava 3 euro la fascia nera di mini in vellutino in pelo in pelo vellutino in questo diciamo tessuto vellutino peloso con questa farfallina fatta in come si può dire in tessuto di insomma vabbè eccola questa non mi viene questo tessuto dorato laminato diciamo questa è bellissima proprio secondo me ed è costata appunto 3 euro quindi la fascia di mini qui c'è scritto mini mouse poi un'altra fascia molto semplice questa l'ho pagata 4 euro questa qui magari uno può pensare anche di metterla fuori non solo in casa in questa fantasia a base nera grigia diciamo fatta così c'era anche un altro c'era anche a base rosa ma la fantasia non mi piaceva poi alcune fasce rosa già le ho per cui ho optato per questa e questa l'ho pagata 4 euro qui ci sono varie figure che si può mettere in molti modi diversi vedete faccio vedere questo questo anche come bandana si può mettere in vari modi io penso che lo utilizzerò modello classico può essere utilizzata anche come sciarpa per il collo anche per legarsi i capelli eccetera 4 euro poi da primark alle casse ho preso questo due in uno charging and data cinch cable che mi serve per la macchina per l'iphone perché quando praticamente sono andata a pisa l'altro giorno misera si sta scaricando il cellulare non avevo un caricabatterie da auto per cui questo c'è la porta usb lo attacco all'accendisigaro diciamo che io non uso però ce l'ho e quindi poi dopo ci ricarico il telefono quindi ho preso questa l'ho pagata 4 euro l'ho trovata alle casse e poi ho comprato ragazze qualche maschera perché sapete che da primark comunque c'è anche il reparto beauty anche se a me non fa impazzire sinceramente però ho comprato qualche cosina che non avevo preso l'altra volta e ho ripreso questa maschera invece che mi era piaciuta che avevo preso l'altra volta ed è la prep più perfect illuminating priming shift mask questa qui l'ho pagata a 90 centesimi il tessuto non è come quello delle cole coreane però insomma diciamo che non non sono male per queste maschere per costare 90 centesimi non sono già scritto made in non saprei dove sono prodotti questi primark united priming shift mask cioè non ci sono scritte in coreano per cui non credo che siano coreane queste maschere ad ogni modo questa 90 centesimi poi siccome mi era piaciuto appunto di questa linea prep and perfect ho preso anche questa stavolta idratante quella illuminante prep and priming questa invece è l'idratante poi ho preso questa qui idratante al watermelon all'anguria e poi ragazze queste costano un pochettino di più ma l'altra volta non le avevo prese e non le avevo provate ho preso queste maschere sempre in tessuto però che sono diciamo dei booster perché sono appunto con degli attivi all'interno per esempio ho preso quindi l'acido gallico che dice che aiuta la luminosità e adatto a qualsiasi tipo di pelle queste sono vegane tutte le maschere di primark sono vegane credo questa non c'è scritto made in vabbè questa qui queste costano un po di più perché sono questi booster praticamente che ha ai vari acidi quindi acido gallico acido succinic succinico sarà non lo so questa esfolia delicatamente dice mildly exfoliates and helps clear skin tone quindi aiuta a schiarire quindi esfolia e schiarisce la pelle questa qui e poi alla vitamina a complex questa una maschera in crema invece un booster illuminante complesso alla vitamina a e questi sono stati gli acquisti che ho fatto da primark la busta eccola qui poi vi danno vi volevo dire una curiosità a proposito di questa busta perché quando si va lì praticamente danno delle per dei cestini che sono di una scomodità estrema allora io l'ho fatto presente in cassa lei mi ha detto signora lei prende questa busta di primark poi la mette in lavatrice la busta praticamente si stropiccia e diventa praticamente si è ripiegabile poi questa busta una volta messa in lavatrice poi quando deve fare deve tornare la primark porta direttamente questa e mette tutto qui dentro io non lo sapevo anche l'altra volta adesso l'ho presa bianca l'altra volta l'avevo presa color diciamo panna questa costa un euro e 50 però se riutilizzabile va più che bene poi questi appunto ho finito con gli acquisti di primark poi vi faccio vedere quello che ho acquistato da primark e si da primark scusate da tiger dove appunto all'interno di quel centro commerciale c'è tiger dove ho preso anche lì una di queste buste che poi procederò a lavare come mi ha consigliato la commessa perché hanno praticamente lo stesso identico tessuto allora da tiger non ho preso tantissime cose però ho preso queste cose qui che vi faccio vedere ho preso due cestini che mi servono sia come organizer mi sono piaciuti ma anche perché quando faccio i video chiaramente mi servono dei cestini per mettere i prodotti e sono questi in questa fantasia così in questa fantasia diciamo un pochettino di base è una corda di base marroncina con questi inserti un pochettino più scuri grigi scuri neri vedete questa la foto del cestino magari con le forbici lo apro così lo voglio vedere un attimo insieme a voi eccolo è bello grosso capiente questo eccolo qui da fargli un attimo la forma eccolo bello mi piace questo l'ho pagata un po 12 euro però devo dire che è buono e ci entrano soprattutto tanti prodotti perché molto capiente e poi ho preso anche la versione piccola c'erano solo questi due che invece questa è costata 7 euro se non mi ricordo male di forma più diciamo rettangolare anche se anche quello è più su un rettangolo lunga così sempre nella stessa identica fantasia poi tra l'altro penso che si possano mettere uno dentro l'altro quindi per la casa per quello che mi serviva diciamo per fare i video eccetera ho preso questi due cestini che sono secondo me appunto sono molto carini e mi piacciono molto e poi che cosa ho preso ho preso delle agende e un calendario per il 2023 perché io in genere queste cose le prendo su amazon oppure anche alla lidl mi è capitato di comprarle però in genere su amazon costano molto di più per cui visto che mi trovavo lì e non è che sono una che vada tiger tutti i giorni e non ci vado soprattutto appositamente per comprare queste cose ho detto fammi comprare il calendario leggende per il 2023 e ho preso questo calendario a 4 euro family planner 2023 in questo in questa diciamo cartoncino verde su base verde diciamo è molto semplice ragazze in realtà quello che avevo preso su amazon era molto più articolato però costano 20 euro quelli per cui quest'anno ho detto tanto non li uso neanche cioè li metto più tanto per bellezza ho detto vabbè quest'anno risparmiamo sul calendario visto che comunque a me di questa cosa me ne frega proprio poco devo dire devo essere sincera e però comunque carino il cartoncino secondo me anche molto spesso eccolo qui con tutti i mesi fatti di diversi colori quindi gennaio febbraio marzo a me basta perché tanto lo metto vicino al frigorifero giusto mi serve se mi devo ricordare qualcosa altrimenti poi comunque anche l'agenda sulla mail sull'iphone eccetera questo l'ho detto 4 euro c'era anche un'altra fantasia però era un calendario fatto in maniera diversa cioè con i quadratini e non mi piace perché l'ho avuto e non mi ci sono trovata bene mi piace il calendario classico con un giorno una riga questo e poi due agende ragazze perché appunto queste cose costano tanto ho detto visto che mi trovo lì le compro ho preso questa agenda diario giornaliera ci sono anche quelle settimanali del 2023 fatto così con le anelle piccolino in formato piccolino a me piacciono questi formati diciamo più piccolini questa più che altro per l'ufficio per la casa vedete c'è molto spazio ci sono anche vedete i come si chiamano questi i segna appassionate della cartoleria aiutatemi come si chiamano comunque insomma per cercarsi il mese per esempio qui a marzo aprile maggio giugno quindi la vedo molto funzionale questa agendina in tessuto rigido c'era anche di un misura più grande e settimanale era in tessuto morbido mentre in realtà il tessuto morbido piace di più però mi era me non piace l'agenda troppo grande per cui ho preso questa e poi invece questa in tessuto morbido in grigio da borsetta 2000 veco l'elastico semplice 2023 anche questa è no questa è settimanale questa è un'agenda settimanale proprio da borsetta mi va bene anche questa settimanale invece nelle agende normali sinceramente preferisco quella giornaliera e data e vero speso sì perché allora i contenitori quello grande 12 quello piccolo 7 il calendario 4 euro l'agendina piccola 4 euro e l'agendina no grande cioè questa solo 5 euro ragazze pensavo 7 e poi la borsa la borsa un euro e speso 34 euro ecco questo è stato tutto il mio shopping che ho fatto nell'ultima settimana per quanto riguarda appunto prevalentemente abbigliamento pigiami intimo cose per la casa e cartolerie cartoleria niente fatemi sapere se i miei acquisti vi sono piaciuti io spero con questo video in qualche modo di avervi dato qualche spunto per i vostri acquisti di avervi tenuto compagnia sentiamoci nei commenti se vi va io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutte ea tutti ciao a tutti